Oggi a Pesaro il nostro ottavo convegno con un tema che crediamo essere essenziale e fondamentale da approfondire con un ospite d'eccezione. Portare per noi Federico Faggin che è l'inventore del microprocessore, quindi la tecnologia che noi oggi utilizziamo è dovuta grazie all'intuizione, l'innovazione, la determinazione di un imprenditore veneto che tanti anni fa nella Silicon Valley ha iniziato a costruire un impero e delle innovazioni di cui tutti noi oggi usufruiamo, quindi portare a Pesaro nelle Marche, la prima volta nelle Marche, un imprenditore così importante direttamente da Silicon Valley credo che sia il giusto omaggio a una città importante come Pesaro. Il messaggio è di rendersi conto che queste tecnologie sono molto importanti e cambieranno il modo in cui si lavorerà e quindi prepararsi e capire che l'uomo però ha una coscienza che la macchina non avrà mai, non nel futuro, non avrà mai. I miei studi sulla coscienza stanno provando esattamente questo e questo è importantissimo perché altrimenti non c'è soluzione perché le macchine alla fine saranno meglio di noi se accettiamo questo fatto, invece non dobbiamo accettarlo, dobbiamo imparare a essere complementari alle macchine perché lo siamo, non perché vogliamo esserlo e quindi anche richiedere che ci sia una certa onestà di uso di queste macchine perché se no è facile che ci sia abuso. Da inventare c'è come usare la tecnologia in maniera che sia per il bene comune invece di usarla per far soldi e basta e questo per me è molto importante perché c'è sempre questa tendenza di andare in questa strada e quindi abusare della tecnologia, per esempio usarla per armi ancora più potenti, cosa che purtroppo si fa sempre e quindi la tecnologia è sempre un'arma a doppio taglio e bisogna imparare a usarla prima che sia troppo tardi, usarla bene.